Giovanni e Paolo vivevano su una grande isola al centro del Mediterraneo che aveva tutto per poter essere felice. Il sole, il mare e mille colori come il giallo dello sparto e della ginestra, il rosa del rododentro, dei grappoli delle tamarici, il verde dei carrupi. Ma qualcosa rubava i sogni, i sorrisi, le speranze e rendeva triste la gente. Si diceva che fosse un mostro, ma aveva sembianze umane e si confondeva tra la gente. Amava il silenzio. Più gente zittiva, più si sentiva forte. Pochi avevano il coraggio di sfidarlo, molti piegavano la testa e la maschera di cera dietro cui si nascondevano. Quando cominciarono a frequentarsi, Giovanni e Paolo scoprirono di avere molte cose in comune. Entrambi odiavano il silenzio e non sopportavano l'odore del sangue che scorreva in rigagnoli e che poi stagnava nelle piccole pozze attorno ai tanti cadaveri vittime del mostro. Stanchi di subire, con l'aiuto di altri uomini coraggiosi, cominciarono a dare la caccia al mostro. Dopo mesi di appostamenti lo avevano quasi stanato, ma quando finalmente stavano per catturarlo accadde l'inimmaginabile. Qualcuno che avrebbe dovuto aiutarli li tradì. Giovanni e Paolo vennero uccisi con straordinaria ferocia, ma la morte di quei due uomini coraggiosi non fu accompagnata dal silenzio. Non quella volta. Molti gettarono la maschera e cominciarono a protestare, a ribellarsi, come non era mai successo. Alcuni in modo silenzioso, esponendo lenzuoli bianchi ai balconi e alle finestre di casa, altri gridando per far sentire il dolore, la rabbia, l'indignazione oltre i confini di quella grande isola al centro del Mediterraneo. Qualcuno scrisse, non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe. Se oggi quel mostro fa meno paura, lo dobbiamo al coraggio di Giovanni e di Paolo, che con il loro lavoro hanno rappresentato un ideale spartiacque, tra quanti il mostro l'hanno combattuto davvero e quanti l'hanno soltanto subito. Ma chi erano Giovanni e Paolo? Giovanni Falcone nasce a Palermo nel 1935, ultimo di tre figli in una famiglia né ricca né povera. Il padre Arturo è direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi. La madre, Luisa Bentivegna, è casalinga. Alle elementari fatica a stare seduto per tutto l'orario delle lezioni e nel tempo libero gioca a ping pong nell'oratorio di padre Giacinto alla calza, il quartiere che lo vede crescere. Dopo il liceo classico, frequenta per pochi mesi l'accademia navale, poi passa a giurisprudenza, dove si laurea con il massimo dei voti. Nel 1964 vince il concorso in magistratura e pretore a Lentini e sostituto procuratore a Trapani. Quando arriva a Palermo, la mafia ha appena ucciso Cesare Terranova, un magistrato che a metà degli anni settanta descrive la mafia come un fenomeno dannoso per le sottili infiltrazioni nella vita pubblica ed economica. In quegli anni, negli uffici giudiziari di Palermo, ci sono anche magistrati timorosi e prudenti e le condanne all'ergastolo, più che ai mafiosi, vengono riservate ai relitti umani che trascinano la loro vita ai margini della città. I collaboratori di giustizia ancora non esistono. Le deposizioni dei testimoni sono caratterizzate da reticenze e paure. Molti delitti restano a carico di ignoti. E un giudice come Cesare Terranova diventa una persona ingombrante con il destino segnato. Come segnato è il destino di Rocco Chinnici, il magistrato che nel 1980 affida a Falcone l'incarico di indagare su un mafioso che ha contatti con gli Stati Uniti. Giovanni Falcone comincia a seguire i soldi, gli assegni che si spostano da una banca all'altra e che i boss utilizzano per acquistare ingenti partite di eroina. Grazie ad una modalità investigativa nuova ed efficace che prevede accertamenti patrimoniali e bancari, vengono arrestati i responsabili del traffico di droga tra Italia e Stati Uniti e scovate le ricchezze di tanti mafiosi. L'incontro con Tommaso Buscetta, un boss che nel 1984 decide di collaborare con la giustizia, rappresenta un passo decisivo nella conoscenza della mafia, una scelta che Buscetta compie dopo che in una sanguinosa guerra di mafia gli sono stati ammazzati due figli, un fratello, un genero, un cognato e quattro nipoti. Chiede di parlare proprio con Giovanni Falcone e a lui rivela tutti i segreti di Cosa Nostra, una montagna di informazioni con cui viene istruito il maxiprocesso, il processo dei processi che si svolge a Palermo con ben 475 imputati. Dopo nulla è più come prima. Falcone comincia ad essere temuto dentro e fuori il palazzo di giustizia. Ci sono colleghi che cercano di screditarlo. Il 21 giugno del 1989 la mafia prova ad ucciderlo con 56 candelotti di tritolo sugli scogli della Daura, davanti alla villa dove è solito trascorrere le vacanze estive. Passano meno di tre anni e Falcone lascia la Sicilia. Va a dirigere la sezione affari penali del Ministero di Grazie e Giustizia. In questo modo è convinto di poter dare nuovo impulso alla lotta contro la mafia. Sono gli anni in cui mette a punto l'idea della Procura Nazionale Antimafia, un organismo di raccordo nella lotta alla criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale. Un lavoro che non fa in tempo a completare. Viene ucciso il 23 maggio del 1992 durante un viaggio a Palermo. Con lui perdono la vita la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre dei sette agenti della scorta. Paolo Borsellino cresce alla Magione, quartiere popolare di Palermo, figlio di farmacisti. La sua vita gravita intorno a Piazza della Calza, gli stessi luoghi frequentati da Giovanni Falcone. Scrive «Per anni ho pensato quanto fosse impalpabile in quel quartiere il confine che ci separava dalla mafia. Come tanti altri ragazzi che abitano alla Magione avrei potuto imboccare la strada di contrabbandiere, di uomo d'onore, anziché quella di magistrato». Queste parole di Borsellino mi sono rimaste sempre impresse. Anch'io nel mio piccolo potevo fare la stessa cosa, imboccare la strada dei mafiosi, come hanno fatto alcuni miei compagni di giochi, che sono stati uccisi o sono finiti in carcere. Dopo aver fatto il pretore a Mazzara del Vallo e a Monreale, Borsellino arriva all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, dove assieme a Giovanni Falcone prepara il maxiprocesso. Tra i due magistrati si consolidano un'amicizia e una collaborazione contro la mafia che nel 1992 li porta alla morte, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Dopo la strage di Capaci, Borsellino è consapevole dei rischi, ma continua la sua lotta. Racconta la moglie Agnese. Paolo si aspettava di morire da un momento all'altro. Mi diceva «mi uccideranno», ma aggiungeva anche «non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri». Viene ucciso mentre con la sua scorta va a trovare la madre in Via D'Amelio. Un terribile boato, una voragine infernale si presenta agli occhi del mondo, quel tragico 19 luglio del 1992. Sono date, eventi, ma soprattutto uomini che non bisogna dimenticare. Sono morti anche per noi, per garantirci una vita migliore. Grazie a tutti.